Vediamo come raggiungere la pagina per l'aggiornamento delle 20 scuole di prima fascia di istituto per chi è inserito in GAE. Allora ricordiamo che l'aggiornamento alle GAE è stato fatto nel marzo 2024 con scadenza il 14 di marzo alle ore 23.59 per poter essere inserito in GAE bisognava almeno aggiornare l'istanza per il biegno 24-25 e 25-26. Una volta entrati nel sito del Ministero dell'Istruzione del Merito andate sull'home page e poi andate su aggiornamento gradatorio ed esaurimento e gradatorio di istituto 24-25 e 25-26. Troverete questa pagina andando su, facciamo vedere i passaggi principali, dunque dal sito del Ministero conviene andare sul menu e andare a argomenti e servizi. Da argomenti e servizi andate su scuola, reclutamento del servizio personale, il personale scolastico, dal reclutamento c'è la pagina riferita alle gradatorie ad esaurimento. In fondo a questa pagina troverete l'aggiornamento per le GAE 24-25-25-26 e vi troverete appunto in questa importante pagina dove scendendo in fondo avrete tutti i dati riferiti proprio all'aggiornamento delle GAE che è stato già appunto fatto e alla gradatoria di istituto di prima fascia. Ora da oggi 29 aprile fino al 13 di maggio ci sarà l'opportunità accedendo all'istanza di indicare le 20 scuole. si accede all'istanza attraverso accedi, facendo accedi si entra nelle istanze online con lo speed, io già ero logato e dunque sono subito entrato e scendendo in basso troverete la pagina proprio per compilare il modello B delle gradatorie di istituto di prima fascia per chi è inserito in GAE. facendo vai alla compilazione si entra nella questa pagina dove si dovrà in fondo alla pagina selezionare come fosse un'informativa dei dati personali e un'informativa per la privacy bisognerà segnalare di aver preso visione di questa informativa e dunque fare compila la domanda, andare a compila la domanda per inserire le 20 scuole. Una volta entrata in quest'altra pagina bisognerà selezionare la provincia in cui si è inseriti in GAE per esempio si potrà indicare la provincia di Reggio Calabria e fare poi avanti per poter proseguire con l'inserimento e con la compilazione del modello B. Grazie a tutti.